Oggi tutti insieme cercheremo di parlare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fanno le? E il gatto? E il castello? L'onico? La lana? La tecola? E il cocodrilo? Cocodrilo! Ehi! Il cocodrilo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta nel cappoppo, che poi diventi buca, che poi non è il suo diaglia. Però quando è tranquillo, come basta il cocodrilo? Il cocodrilo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Se la mia manostrilla, ciò sempre andavo di là, Che per quando è il canto, se ne va.